E bentornati e bentrovati in un nuovo video gameplay di Prince o Pezzi dei Troni Sono sempre il vostro Tugno94 e giocheremo il gioco che bisogna giocare perchè il gioco deve essere giocato No, stavolta l'ho detta bene, si Allora, eravamo arrivati qui Qui ho detto che c'era un potenzialamento vita quindi lo vado a prendere Almeno credo, di solito quando c'è una scorciatoia di qualche tipo Scorciatoia, qualche Una tanna di topo, che cazzo non so che è quello Io sono solo passato da attraverso Siamo che non sia tanto difficile perchè se no Dai Sì, dovrebbe essere il quinto potenziamento di vita Non so se è il penultimo o il terzo ultimo Comunque aspettiamo intanto che Strano, non ci sanno tra Ah, vedi che t'ho sgamato? E io faccio così Dai, 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 dai Merda No, volendo potevo usare sempre il potenzial... Ma non me va Vai Ecco Dai che sta lì, orca miseria Oh Un bonus di salute, dovrebbe essere... Il penultimo, sì Perché se ottengo l'ultimo bonus, dovrebbe arrivare al massimo della vita Buono Sai che mi danno con l'ultimo bonus? E chissà dove sta Ripeto, io bonus di salute non l'ho mai cercato Sono andato sempre dritto Infatti ho vinto la prima partita, la prima volta che l'ho finito questo gioco L'ho finito con la vita iniziale, con la barra di vita iniziale Quindi c'avevo un ticchetto di vita proprio Il boss mi massacrava, il boss finale Andiamo avanti E... E siamo all'inizio dove eravamo rimasti No, vabbè, salvare no, non mi va Altranto non dovrei morire Perché continuo a dire che questo è una scimmia Non è un essere umano, ma va bene Ok Se non fanno a scendere le scale in questa maniera In molti giochi appare la... Fa vedere come scendono le scale così Un altro salvataggio, come mai? Mmm, è puzza di battaglia Ma è ricordata le sabbie, va Ma al solito uno cerca delle sabbie e ne trova una Molto inutile No, qualcosa non quadra C'è poca roba In questo momento sto attirando tutti i mostri Ma che sti cavoli Chi se ne frega Ok, volendo li posso schivare No, 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 no Sai, veni qua Aspetta, 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 aspetta Aspetta Ah, questo è quello da... Che non muore mai, praticamente Cribbio, ti ho dato fino a mo' quattro coltellate Ancora non muore Buonanotte E con la cesta lì che ci fa? Volendo, basta che salgo su questa Salgo qua Ah, no, devo andare là Quindi devo scendere per forza Dovevo usare per forza No, non ho capito il senso di quella cesta Ah, ho capito Facendo usare le pertiche Quelle pertiche serviva per fare l'assassino veloce L'assassino silenzioso No, non hai capito Girati No, no, girati Mi stai facendo arrabbiare È proprio una scimmia Il cervello ce l'ha Della scimmia No, non funziona così Senti, sai che ti dico? Ah, no, aspetta C'è stanno dei segni sul muro Che vuol dire che devo correre? Grazie Ubisoft Per questo Questo indizio Aspetta che ce n'è un altro De questi Dove vai? No Ancora no Adesso Perché ho attivato Mi hai scappato il tasto C'è due coltellate in pancia Una nella gola Tre coltellate in pancia E non moriva Cristo Che si è attivato? Ah Devo usare l'allentatore Uuuuto Fermate Qua c'è qualcosa Sti cavoli Ah no Il no non era verso il principe oscuro Ma era no non andare lì Che due scatole Sempre a salvare la gente Salva vite Che meraviglia Un edificio in fiamme Pieno di cittadini indifesi Che implorano aiuto Sì sei proprio come Ma va No Veramente non ha torto Perché vuole ucciderti E tu avessi già ucciso Due miei luogotenenti Luogotenenti Uno era un ciccione Un'altra era una Ancora non ho trovato un numero Che quella donna Ma va bene Sti cavoli Che cazzo è sto bug visivo Sembrava non poi No vabbè Non lo posso dire No c'è Là c'è un problema Quindi c'è deve essere un pulsante Eccolo qua E' a tempo? No Non è a tempo E' una trappola Ma è ridicolo Veramente ha ragione E' proprio così Oh mio dio No Scusate Ammazzo subito Il cane Così non Sentite Io la voglio risolvere veloce No Oh Un colpo lo parano Un altro no Ecco Abbiamo risolto Ma le spalle però Sembrano delle daghe Un po' elaborate Un altro pulsante Da tirare In teoria anche questo Non dovrebbe essere a tempo No Poco non cado dai sotto Io che ne so che c'era uno Wow L'ho bisciottato Principe cosa fai? Non fare minchiate Mi fai fare figure di merda Perché non ha tirato fuori l'arma? Ma che c'è Che lo scusa Gira di verso quella Mi piace quando Mi fa fare Mi fa le uccisioni All'alentatore Ma poi c'è Tu colpi di catena E muoiono Che ci si impegnano pure A combattere Oddio qua io mi perdevo Perché Sì Adesso ho capito No Non ho capito No Non ho capito Aspetta In teoria Devo salire qua sopra Balzare qui Poi Sompare Fino a sopra Ah ok Ho trovato Fortuna che Per quanto riguarda i videogiochi C'ho una memoria Della madonna Se fosse stata roba di scuola Me la sarei già scordato In un certo senso Mi manca la scuola In un certo senso Almeno non mi devo svegliare All'alba Volevi andare a prendere Un pullman E tanto so Anche se sto crevato Eccola qua Ciao Oddio non ho gli occhi Però in teoria Il braccio dovrebbe essere nero Il braccio Quello Quello Maledetto Boh Vabbè Nei video lo fanno vedere nero Qua lo fanno vedere col guanto Mica Cioè Coerenza Innanzitutto Non te lo dico Vai a cagare Vai a cagare Ecco Stavolta Invece La cosa è un poco Più difficile Perché Uccidendo questo Al volo Non potevo rimanere In principio scuro No Cioè Davo un colpo Un colpo di catena E moriva Non c'è nessuno Oddio Sono tutti questi Oddio C'è stanno Due guardie Che palle Eh allora La faccio prima Fuori quello Aspetta 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 No Porca miseria Torna indietro Torna fino al salto E dai Dai Qua non si avvicina Non riesco a guardarlo Mi fa verde tempo Ma dai Ma porco mondo Ma guarda quel Il portale non si richiuderà Finché tutti i guardiani Non saranno sconfitti Alla Minchia che rabbia Minchia che rabbia Minchia che rabbia Creep No la mazza verata No Ma un culo di Di Attenti la volevamo fa facile Ma che cazzo Ah Sì Come sprecare Due cariche di sabbio Ovviamente Fammo facile così Guarda Eh sì Vabbè Mamma mia Che nervi Quando faccio Ste cazzate Ma no Non dovevi colpirlo Dovevi sali qua E vabbè Cioè Stanno tutti raggruppati qua Niente Perché il tasso La parata arriva a ritardo Ogni volta Ne son due Andiamo di scaffarne fuori due così Eh Manco morto Io voglio un'arma migliore Non voglio questa merda Di pugnale Oh Eh ma E' l'ultimo Tie Sta zitto Beh Che non si chiude Ah No Ha sparito l'arma Merda Musso i crediti Sto registrando Già da 15 minuti No vabbè Continuiamo ad avanti Anche non trovo Salvataggio Muoversi 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 Che cazzo era quel rumore Se Gesù Cristo Voi e tutto il resto Vi faccio così Ma madonna Ma madonna Senza Con un solo Calentatore Meno male Acqua Poi entro là C'è tutto Vabbè Salviamo Sì Quel potenziamento Doveva essere Penultimo Quei forza Laboratorio reale Ammazza C'erano pure nel laboratorio Penso un po' Vabbè Da questo video è tutto Cliccando mi piace Se vi garba E commentate sotto il link Iscrivetevi al canale Mi raccomando Da voi Da Tonio94 È tutto